... ... ... il mio biglietto ... il mio vive! Tu! Avanti! Ciao Maria, come va? Lo so, per l'ultima volta avevamo detto di non vederci più Però... Però... E' questo che vuoi? Stavo solo controllando! Stronza! Esci fuori! Cammina! Esci fuori! Basta! Ancora! Ciao Aldo! Anna! Anna, ma non è che non ci vediamo? Stava cinque anni! Ma ricordi? Ho sentito il telefono due anni fa! Allora Aldo... Dove lo tengo cosa, Anna? Il biglietto! Lo sanno tutti che c'è! Che cosa? Eh? Questo? E' questo che vuoi? E' questo che vuoi? Oh! Maffanculo! Sei una sporta! Battene! Battene dopo cinque anni! Ma come ti tratti? Maffanculo! Come ti tratti! Come la strozza! Esci fuori! Battene! 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 Battene il biglietto! 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 Io non... L'aprò mai! Non lo vedrete neanche voi! Non lo vedrete neanche voi! Perché io non vedrò mai questa grande soddisfazione! E' un po' tante l'evole